Mets, prima vittoria di questa stagione, una vittoria sofferta, sudata ma meritata perché Verona ci ha creduto fino all'ultimo e siamo riusciti a conquistare questi due punti importanti per muovere la classifica. Sì, bravi noi a vincere questa partita perché è stata complicata. Voglio fare i complimenti a Cisterna perché hanno giocato molto bene oggi e complimenti anche ai tifosi che ci hanno aiutato. Secondo me è stata una partita un po' con periodi su e periodi giù per noi. Sono molto contento, molto contento che siamo rimasti con la testa e alla fine abbiamo portato a casa. Un contributo importante è arrivato anche da parte tua, 15 punti, un ace, però il momento forse tuo più significativo è stato al cambio campo nel tiebreak quando hai suonato la carica a tutti i tifosi e hai alzato il ritmo del palazzetto e il rumore veramente si è intensificato. Sì, come hai detto i tifosi giocano insieme a noi, noi giochiamo per loro però loro sono molto importanti per noi e nel nostro palazzetto sappiamo tutti che per le altre squadre è difficile vincere quando il palazzetto è caldo. Quindi complimenti ancora ai tifosi. Quanto vale una prestazione di questo tipo in vista anche poi del prossimo impegno in casa di Grottazzolina, una neopromossa che però ha saputo già mettere in difficoltà le squadre di Superliga? No, tutte le squadre sono molto forti quest'anno in questo campionato. Questa partita secondo me ci dà buoni segnali perché adesso sappiamo che possiamo vincere anche non giocando sempre al nostro massimo e questo per noi sarà fondamentale in questa stagione. Grazie.